E' un tanto! E' un tanto, ci fanno bene! Giuseppe, ma credi che la voca prima di fare una partita eccezionaria! Ehi, com'è? Dio! Aspetta qua lì qua! Da, non, la prego! Questa è stessa... ...ma parte... ... Ma vede dove c'è così? Non vada dalla Reggarda, dove? ... ... ... ... No, voi sarei al gato, no, no, ma qua non so bene qua. No, volevi sarei, qua di gara, guarda in fondo. Sì, non so per capire qua, eh? Grazie. Sì, non c'è nessuno. ma è un po' dai ma è un po' dai 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 Ma non è proprio la ponte, ma non è proprio la ponte. Ma è questa, non è praticamente. Non dovete fare un'altra volta. Direi che ci stanno lavorando! Vai, 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 vai